ciao a tutti stamani il buongiorno ve lo do personalmente ed approfitto anche per invitarvi al creativa di napoli dal 6 all'8 novembre che si terrà presso le fiere del tremare dove MNDF sarà presente al padiglione numero 5 con lo stand numero 126 potrete vedere i nostri cartoni il nostro intero campionario e anche alcune novità che saranno presentate in anteprima proprio in occasione di napoli buongiorno a tutti